Al comunale Polcini di Gualdo di Narni si affrontano nuova Gualdo Narni e Castello per la venticinquesima giornata di campionato di seconda categoria Umbra Girone D sotto la direzione del signor Rusciani della sezione di Terni. Padrone di casa in cerca di una vittoria per lasciarsi alle spalle la sconfitta del turno precedente ed ospiti in cerca di tre punti per un miglior piazzamento nella griglia playoff. Il Castello si rende subito pericoloso con Paragnani prima al sesto servito in aria D'Ardizio che si gira ma non trova lo specchio nella porta e poi all'ottavo con un tiro da fuori aria con la palla che finisce sul fondo. La reazione del Gualdo non si fa attendere ed arriva prima all'undicesimo con De Angelis e poi al ventinoesimo con Capirotti con la palla che si spegne sul fondo. Il Castello si porta in vantaggio al trentesimo con Ardizio che lanciato in aria si fa beffare la difesa mettendo la palla in rete. Castello vicino al raddoppio al trentasettesimo sul calcio piazzato che passa in mezzo alla barriera ma trova a buon tempo ben piazzato. Il primo tempo si chiude con il Castello che trova il secondo gol al quarantunesimo con Ardizio che riesce a mettere la palla in rete dopo aver colpito il palo. La ripresa si apre con il Castello in avanti che al quinto trova il terzo gol con Rossi abile a sfruttare una indecisione della difesa locale su azione da calcio d'angolo. Gli ospiti non appagati continuano ad attaccare trovando il gol al sedicesimo di nuovo con Rossi servito da Ardizio che lasciato da solo davanti a buon tempo ha tutto il tempo di coordinarsi e mettere la palla alle sue spalle. Il Castello sfiora la quinta rete al venticinquesimo con Paragnani sul calcio di punizione ma a buon tempo si distende respingento. Marchetta al trentesimo commette falle in aria su Proietti e il direttore di gara segna il rigore di cui si incarica di batterlo Di Giacomo che senza esitazioni realizza. La nuova Waldo va vicino ancora al gol al trentaseesimo di nuovo con Di Giacomo che da calcio piazzato c'entra la traversa. La gara termina con buon tempo, protagonista che al quarantatreesimo con l'aiuto della difesa e poi al quarantacinquesimo si impone al gol salvando il risultato da un passivo troppo pesante. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio sempre la possibilità per poter dire quattro parole a beneficio di una squadra che merita questo cammino e oggi eravamo un po' preoccupati perché l'avversario all'andata ci aveva dato un buon motivo per essere preoccupati. Dato che sono organizzati in campo, sono allenati da un ottimo allenatore e quindi conoscendoli avevamo molto timore. Però la squadra oggettivamente ha qualcosa in più tecnicamente e soprattutto mentalmente visto che stiamo percorrendo un percorso importante e sinceramente la classifica a mio avviso è un pochino bugiarda per il valore di questa squadra soprattutto per come gioca. Veniamo da un periodo ottimo di una lunga serie di risultati positivi, speriamo di continuare così, oggi apparentemente è stata abbastanza tutto facile, però prima di giocare le partite sono tutte difficili. Speriamo che riusciamo a centrare i nostri obiettivi per poterci giocare tutto fino alla fine. Vorrei fare i complimenti ai ragazzi perché oggettivamente come voi potete essere anche testimoni, giocano un bel calcio. Credo che chiunque venga a vederci si diverta. La partita è stata dominata dall'avversario naturalmente. Abbiamo preso quattro gol ma ci hanno sovrastato sia fisicamente che tecnicamente. L'episodio del rigore era netto e ci hanno asfaltato come si vuol dire.